Veniamo al tema, la manipolazione. Ti ricordo però che sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Terramasco tu potrai, abbonandoti, partecipare al mio fantastico seminario online che farò martedì, no, venerdì, venerdì, venerdì 24 settembre dalle 20.30 alle 23.30, quindi venerdì 24 settembre dalle 20.30 alle 23.30, poi il seminario ti durerà per un mese, però lì sarà in diretta, sugli imprinting, come sedurre, come conquistare sugli imprinting, come sbloccare i tuoi imprinting, cioè i conflitti genitoriali, le emozioni compresse per sedurre, per stare bene. Quindi non puoi mancare a questo fantastico seminario. Per abbonarti è facile, basta andare sul mio canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Terramasco e tastina abbonati vicino al tastino iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer e poi seleziona seminari online. Ma veniamo alla manipolazione. Allora, diciamo che sin dalla nascita l'essere umano intreccia un numero elevato di rapporti con i suoi simili, a partire dai genitori, dalla madre e poi in tutto il contesto familiare. Poi ovviamente crescendo, diciamo, ci sono il gruppo dei pari, quindi delle persone con le quali della stessa età, compagni di gioco, compagni di avventura. E in queste relazioni, diciamo, ci sono, diciamo, anche dei conflitti. Nasce l'esigenza in qualche modo di avere la supremazia da questo punto di vista. Perché gestire le relazioni apparentemente sembra facile, però l'uomo, diciamo, spesso vive dei conflitti e spesso ha bisogno di ottenere delle cose che normalmente non riuscirebbe a ottenere. L'uomo è un animale sociale, quindi ha bisogno del contatto con gli altri proprio per natura, non possiamo vivere isolati. E quindi l'essere umano sbaglia, fa errori e quindi talvolta, diciamo, agisce più per il male che per il bene. È il male che una persona può generare, è potenzialmente imputabile a diverse cause, alcune delle quali possono anche essere legittime, altrimenti. Diciamo, ci sono i bisogni che spingono l'individuo ad agire, possono essere il bisogno di denaro, il bisogno di sesso, i bisogni principali. Quindi talvolta uno dei modi che gli esseri umani usano per prevaricare, non c'è.